buongiorno a tutti i ragazzi bentornati sul mio canale nel video di oggi e nella playlist project altcoin andiamo a vedere che cos'è la block chain di stellar e il token lumens ovviamente dopo la sigla è nata da una branchia di ripple la differenza sostanziale tra ripple e stellar è che ripple è una valuta centralizzata mentre stellar e decentralizzata stellar è una block chain a bassissimo costo di transazione è un'ottima velocità nata per i pagamenti e per i micro pagamenti stellar attualmente è al rank 11 per capitalizzazione di mercato a un valore di 51 centesimi di euro con un incremento del 10 per cento nelle ultime 24 ore a una capitalizzazione di mercato alta da 11 miliardi poco più di 11 miliardi di euro per un totale di circolazione attualmente di quasi 23 miliardi di xlm per il 46 per cento della total supply il rifornimento totale sarà poco più di 50 miliardi di cripto stellar oltre ad essere una cripto per una block chain metri di pagamento alternativi a delle missioni lodevoli come obiettivi ovvero la lotta contro la povertà e dare un accesso a chi non è privilegiato per l'accesso alle banche quindi vuole portare questa micro economia ad esempio in paesi sotto sviluppati con una povertà elevata come potrebbe essere l'africa dove le persone non hanno accesso alle banche stella vuole arginare queste problematiche la cripto valuta stella ormai viene definita cripto valuta punto stella ma realtà stella è il network la sua cripto valuta si chiama lumens o xlm stella è un codice open source e la stella dot org l'organizzazione che sta l'organizzazione no profit che sta alla base di stella ha deciso di renderla open source senza alcuna tassa d'ingresso quindi chiunque può lavorare su stella network in modo completamente gratuito il network di stella oltre permettere l'invio di lumens permetterà anche l'invio di diverse cripto valute all'interno del nostro dell'ecosistema di stella per quanto riguarda la decentralizzazione di stella il protocollo di consenso viene definito ibrido ovvero non è un proof of work ma non è neanche un proof of stake ma si chiama stella consensus protocollo vi lascerò il link in descrizione per andare a studiare il white paper e per andare a leggere e cercare di capire il protocollo di consenso che si è raggiungibile comunque all'indirizzo stella punto org slash paper slash stella trattino consenso strattino protocollo un'altra cosa che fa e permette la blockchain di stella anche se molti non pensano a questo questo fattore permette di creare smart contract e applicazione decentralizzate stella rvan vanta anche una serie di partner non da poco uno delle più famose partnership riguarda ibm e samsung un'altra partnership importante che gira sulla blue chain di stella l exchange collegato a una carta visa e mastercard di wirex ecco qua se andiamo a spulciare le partnership vediamo anche appunto ibm interstellar exchange beat go adesso vi sto leggendo quelle un po più conosciute e di rilievo curve e mon clip potete vedere le partnership proprio alla pagina del alla pagina ufficiale di stella punto org alla voce partner stellar è stata lanciata nel 2015 proprio come forte di ripple e da allora ha elaborato più di 450 milioni di transazioni effettuate da oltre 4 milioni di account stellar non ha mai cercato di minare l'economia mondiale anzi fin dall'inizio il software della sua blog cene è stato progettato per migliorare piuttosto che sostituire il nostro sistema finanziario uno dei vantaggi di stellar come ho accennato prima è una rete di scambio globale che in grado di ospitare migliaia di scambi tra valute e token al secondo lo scambio tratta cripto valute e valute digitali può essere solitamente un processo lungo e costoso stellar rende questo tipo di scambio molto rapido ma soprattutto molto molto economico il token xlm rispetto all'ultimo anno è cresciuto del 493 per cento e con un aumento del prezzo di scambio con il dollaro di oltre 48 per cento in un mese il valore anche oggi è arrivato intorno ai 50 centesimi rispetto ai circa 7 centesimi del febbraio 2020 il team degli sviluppatori ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un aggiornamento della roadmap del 2021 facendo il punto della situazione e mostrando quali saranno le prossime novità in mista una delle più importanti è la stima di una considerevole crescita del dell'incremento dei volumi delle transazioni elaborate tramite la block chain di stellar ed il numero di programmatori che sviluppano le applicazioni decentralizzate servizi per block chain quindi potenzieranno sia la velocità sia sonvenzione ranno gli sviluppatori applicazioni decentralizzati e servizi proprio sulla loro block chain vediamo alcuni dati per quanto riguarda stellar ad esempio le transazioni vengono confermate in meno di cinque secondi ed è possibile elaborare migliaia migliaia di transizioni al secondo come funziona per il metodo di pagamenti più conosciuti come ad esempio visa è possibile utilizzare stellar consenso protocol come abbiamo detto prima ha delle api dedicate supporta smart contract e portafogli multifirma non è minabile questa è una cosa molto interessante e ha un'inflazione annua che si aggira intorno all'un per cento per quanto riguarda i wallet su po è supportata davvero in diversi wallet a parte gli exchange è supportata sull'hardware wallet legger non è nano s e trezor ci sono anche dei wallet desktop o dei web wallet potete utilizzare tutti questi che sono menzionati all'interno del sito ufficiale mi raccomando grazie al sito ufficiale avete la possibilità di scaricare proprio i wallet originali quindi non cercatevi su google ma affidatevi sempre al sito di riferimento vedete ce n'è veramente tanti sono due pagine di wallet completi siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro video del nostro appuntamento vi invito ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro e condividere i miei video ed unirvi alla nostra community di telegram se avete piacere poi come sempre passate sul nostro patron a domani